Noi non siamo la Svezia. E però mi scusi, questo non è un dato di fatto, questo è qualcosa che la politica che si può correggere. D'accordo, ma vedi, come lei mi insegna ci vuole tempo. Incanalando le risorse pubbliche in primo luogo, diciamo, nei canali che in qualche modo correggano questa situazione. Parliamo di scuola, di ricerca e sviluppo. Vedi, come lei mi insegna, occorre tempo per fare queste cose. E se in Italia, dopo 150 anni, abbiamo ancora purtroppo l'esempio di alcune parti del paese che non sono riuscite a raggiungere il livello di sviluppo di altre, lo stesso vale anche per gli altri sistemi, nel caso specifico per gli equilibri europei. Ma è la politica che deve fare queste cose, però, senatore Gargiani? Certo, ma non è la soluzione. Siete voi delegati, i chirurghi siete voi, il paese è malato. Come può ben capire chiunque, anche il più semplice dei cittadini, non sta nel travasare un continente in un paese. Perché in questo modo cosa si fa? Si sovrappongono semplicemente le povertà e le miserie. Ed è quanto non abbiamo bisogno di fare. Facciamo invece un ragionamento serio sullo sviluppo di questi paesi. Perché? Perché ricordo ancora oggi quelli che brindavano, soprattutto quelli che allora erano gli illuminati della sinistra per le primavere arabe, che hanno scatenato l'inferno in tutto il nord dell'Africa, in tutta la parte legata al Medio Oriente. Cioè, in queste circostanze bisogna anche guardare le realtà che stanno sviluppando. Perché non possiamo non ricordarci che per un siriano si fa prima ad andare in Arabia Saudita che arrivare in Germania. Il problema è che in Arabia Saudita non li fanno entrare.